Care studentesse e cari studenti, la nostra scuola è composta da sette sedi e questo mi rende impossibile essere presente in tutte per salutarvi come pure vorrei fare. Nel primo giorno di scuola mi affido quindi al nostro account di Instagram per accogliervi, salutarvi tutti in un colpo solo, in attesa di venirvi poi a trovare nelle classi man mano nelle prime settimane di scuola. I coordinatori didattici che mi rappresentano in ogni sede vi accoglieranno, vi faranno conoscere la scuola e saranno disponibili a rispondere alle vostre domande. Desidero soffermarmi su due novità. In primo luogo vorrei quindi rivolgere una particolare attenzione agli studenti del liceo artistico. Molto lavoro è stato fatto dal mese di gennaio quando abbiamo raccolto le vostre iscrizioni. Infatti abbiamo costituito il liceo Gastel che è nato dall'unificazione tra il liceo economico sociale che già esisteva e l'artistico. Abbiamo acquistato i nuovi laboratori che adesso sono in fase di consegna e di montaggio. Stiamo accogliendo i nuovi insegnanti, compresi quelli dell'area di indirizzo. Quindi siamo pronti a partire. Voglio poi parlarvi delle importanti novità per quanto riguarda l'istituto professionale per gli adulti. Abbiamo infatti attuato una riorganizzazione dei nostri corsi per consentirvi di conseguire il diploma di maturità in tre anni. I primi due anni sono destinati a sviluppare i nuclei fondamentali del corso di studi che voi avete scelto. Il terzo anno, che coincide con il quinto anno dei corsi di urni, è invece finalizzato a prepararvi a sostenere l'esame di Stato. Vorrei concludere questo mio brevissimo saluto con una considerazione. La scuola è innanzitutto il frutto del lavoro dei docenti che insegnano nelle vostre classi, a cui vi invito a prestare sempre attenzione e verso cui vi prego di essere sempre rispettosi. Ma non dimenticate mai che la scuola esiste per voi studenti e quindi con le lezioni in classe che vengono svolte dai vostri insegnanti che con l'occasione saluto, con i libri che vi proponiamo, con le uscite didattiche, gli scambi culturali e linguistici, con i tirocini lavorativi che andiamo ad organizzare nelle aziende che storicamente lavorano con noi. Nelle iniziative culturali, con le iniziative culturali nelle quali noi vi coinvolgiamo, noi vorremmo essere soprattutto il catalizzatore del vostro interesse, della vostra partecipazione e del vostro impegno. Perché la finalità della scuola e senz'altro della nostra scuola, il frisi, è quella di aiutarvi a creare un bagaglio culturale e professionale che poi voi vi porterete avanti per il resto della vostra vita, arricchendolo, ma senz'altro basandovi su ciò che fate in questi anni da noi. E dunque, benvenuti a tutti e buon lavoro.